Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, scusate in ritardo avevo già fare ieri questo video il report diciamo dell'ultimo giornale di campionato e però purtroppo ho avuto da fare quindi non ho potuto fare il video allora partiamo dal presupposto, noi abbiamo pareggiato, ormai quello ho già ampiamente parlato per quanto riguarda le sorprese, secondo me le due sorprese di quest'anno sono il Frosinone e il Bologna che il Bologna continua a vincere contro il Torino, prossimo avversario Lecce e si mette sesto in classifica cioè sesto, quindi in piena Europa League, poi ne approfitta pure che comunque l'Atalanta ha perso contro il Napoli scontro diretto, quindi Napoli è passato quarto, il Mila terzo con una partita incredibile contro la Fiorentina finalmente il Mila è stato massacrato ma ha vinto 1-0 e quindi è passato terzo e poi lo scontro diretto Juve-Inter secondo me, ma secondo tantissime persone sarebbe stato un biscotto 1-1 quindi diciamo abbastanza scontato, perché poi viene da dire che c'è stato il problema delle docce non davvero avete saputo che i giocatori dell'Inter si hanno dovuto fare la doccia a casa loro vabbè succede anche questo, anche se siamo nel 2024 quasi, succede anche queste le docce si possono rompere le tubature e quindi loro si fanno la doccia, a casa, a casa, mamma mia per il resto giù la sarenitana, che mi hanno rotti i coglioni, un sacco di persone mi hanno rotti i coglioni la guardo sempre in casa degli altri, la sarenitana, la sarenitana ultima, non vince mai, non vince mai e ho vinto contro l'Azzi, mi puzzano picca, no? l'Otito, cose, non penso ovviamente, no? questa è solo la mia stronzata che sto dicendo io ti appuzzerò poco anche se non c'è più l'Otito però sempre una vecchia squadra, secondo me c'è sempre, ma lo so io sono cose, sono pensieri miei, eh, personali, no, cancete, chissà che cosa sono pensieri miei, comunque, questo è il fatto che ha vinto, ha fatto un'ottima partita che Andreva, veterano, quarantenne quasi vabbè, c'ha 36 anni, 37, però io dico quarantenne per un modo di dire ho fatto un ero gol, hanno vinto la partita e quindi si sono messi a meno a tre, scusatevi dal terzo ultimo, che no, due punti perché c'è la sarenitana, poi c'è il Verona a nove e poi c'è l'Empoli e il Cagliari a dieci, quindi si è messa a due punti perché c'è l'Empoli e il Cagliari che stanno tutte e due a dieci che uno è terzo ultimo e l'altro è quarto ultimo, eh sì e quindi ragazzi si è messa a due punti, quindi la sarenitana spacciatissima si è messa lì l'Udinese che perde contro la Roma, meno male Empoli-Sassuolo, vince il Sassuolo, io avrei preferito in un pareggio però, dalla parte è meglio così adesso siamo noi a più 5, praticamente dalla zona salvezza continuiamo a fare pareggi per il resto, diciamo, delle partite Monza ha pareggiato con il Cagliari quello, se a Intlu Monza sarebbe stato meglio però va bene lo stesso diciamo che il risultato è più, no? quello più che fa Scalpore non c'è stato il Flosionale che vince in casa contro in Genova sì, è uno scontro diretto, ma ci sta non ci sono state di cui siamo questa settimana grosse sorprese vabbè, il Napoli che vince in casa nell'Atalanta quello è un grande risultato Bologna-Torino comunque ci sta che vinca il Bologno fatemi sapere cosa è pensato di questo un campionato molto equilibrato e molto bello equilibrato ovunque equilibrato nello Spudetto equilibrato nella Champions perché beh, Bologna non voglio esagerare non credo però comunque c'è la Roma c'è l'Atalanta c'è il Napoli che comunque rischia cioè, che potrebbe arrivare quarta il Milan stesso comunque che comunque stenta ha perso anche in Champions ha vinto contro Ferentina comunque rimasta lì a 20 punti quindi sta lì praticamente perché il Napoli è quarto a 24 quindi sono 3-4 punti stiamo là l'Atalanta a 21 stiamo lì se la giocheranno lo Spudetto penso che la Juventus e l'Inter quest'anno hanno qualcosa in più quindi non lo so può dar sicuro che il Napoli si inserirà farà altre 4 vittorie di fira non lo so per ora mi sa che sono se non erro sta a 6 punti dal primo posto se non mi sbaglio 6 o 7 punti non sono pochi comunque non è facile quando vai più sopra è più difficile recuperare punti sotto 6 punti 5, 6, 7 si possono recuperare perché comunque una può fare 3-4 con 5 sconfitte di fila allora tu fai 3 vittorie e sali in alto quanti più punti c'è di stacco è più difficile perché una squadra grande è difficile che perde tante partite e quindi è normale che un'altra squadra è difficile che le raggiunga ma questo si sa è una cosa che si sa quindi la salvezza equilibrata fino a noi secondo me fino a 15 punti per il resto no fino a 15 punti quindi Sassuolo Lecce Genova Udinese Empoli Calleri sono tante squadre Verona Salernitana c'è solo tantissime squadre non in lotta quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate a me questa campione mi sta piacendo l'importante è a me che ne salviamo noi dell'Aro e me ne fuggono cazzo potranno salire vincere scudetti non mi interessa però comunque dai è un bel vedere diciamo questo campionato un'altra cosa del Lecce ho sentito e poi mi viene da ridere hanno messo io poi gli ho scritto chi l'ha messo Rasca speriamo con Rasca cupenza con Rasca e con un rompericuglio io che chiedi con Rasca cupenza con Rasca e con un rompericuglio all'Ovar mi hanno detto pure il barese ma è vera la sua storia un altro barese tutti i barese si hanno minti all'Ovar addio è finita ma noi domenica dobbiamo vincere contro anche tutto e tutti dobbiamo veramente sono 10-11 partite che manca la vittoria contro il Genoa non mi ricordo forse era la quarta giornata di campionato se non erro quarta o quinta quindi sono passate ormai 10 partite quindi ragazzi fatemi sapere cosa in sé so che il Bologna è la squadra più in forma del campionato che sta ora lo so lo so però visto che comunque il Bologna ha già vinto tante partite ha ruttili cucchioni qualche sconfitta Bolognesi va bene speriamo domenica visto che giocheremo alle 12.30 di farci un bel piatto alla Bolognese domenica vi dobbiamo mangiare tortellini alla Bolognese ciao ragazzi bari merda sempre via ciao 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 Grazie.